Forse una distrazione, forse la fretta, patto sta che un automobilista è rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello tra via San Francesco e via Grottaglie, zona industriale di Francavilla Fontana. E la paura al netto dei disagi per il traffico bloccato è stata tanta l'altra mattina, perché c'era un treno in arrivo. Ad evitare un pericoloso scontro tra l'auto e il convoglio ci hanno pensato i carabinieri della compagnia della città degli imperiali, che data l'emergenza hanno immediatamente contattato le ferrovie e quindi informato il macchinista circa la presenza del mezzo sui binari. Il pronto intervento ha consentito di scongiurare l'incidente e di salvare la vita del conducente, che però è stato poi multato per non aver rispettato il semaforo rosso e quindi aver impegnato i binari mentre le sbarre del passaggio a livello si abbassavano. Un caso tipico, più volte registrato proprio a Francavilla Fontana, città degli imperiali, eppure le passaggi a livello circa una decina che tra guasti disagi e imprudenza scandiscono spesso il ritmo degli automobilisti in accesso e in uscita. Anche questa volta è andata bene.